e pura video ragazzi benvenuti nuovamente su wolfenstein continuiamo questo bellissimo gioco dove l'abbiamo lasciato nell'ultimo capitolo capitolo dove wesley rip wesley è stato un eroe ma se n'è andato come i più grandi e la strada penso sia a specchio comunque come ha detto il nostro amico bj la missione rimane adesso è quando dobbiamo scappare da qua il nostro amico wesley rip wesley ah di qua non può venire vediamo di uccidere te a Ok 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 ragazzi finalmente almeno le allarmi non ci sono più abbiamo ucciso i bastardi che potrebbero parlare E già questo mi tranquillizza Cerchiamo di capire dove c'è da uscire Dall'altro lato da dove sono ok Adesso in realtà basterebbe stare attenti Allora l'ho tritto di colpi perché ha rotto i coglioni va bene ragazzi Questo che hai rotto le pale Ma il gioco è stronzo Allora il gioco vuole così facciamo così Dove cazzo è sta roba Ero giusto Qua no E l'altra Ok dall'altro lato allora giusto Facciamo il giro Non credo sia qua ma vediamo Ah invece si Se lia vero Facciamo il gioco Facciamo il gioco Facciamo il gioco Sì! Così imparerò a uscire dalle finestre Ragazzi magari ne veniamo fuori No Alla è si poi Ok Joko per favore Non ho più vita Me voi Ciao grandi Me voi ven Ciao campioni Già Sono scappato Sono scappato Fuggito 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 Siete delle merde Mi spacco tutti i vetri Abbiamo disattivato la corrente Devo riattivarla Ai ai Cerchiamo di farli fuori prima Dai Dai papi Facciamo finta che sia morto Non credo ma facciamo finta E muori Alarm fai zitto stai eh tanta roba bravi tutti in fila come piace a papà mi piace C'è quando lo usano, eh. Vai, silenzio. Vai. Stanno arrivando altri, vero? Bravi in fila, India. Come piace a me. Saca la cabecita, cabrón. Viamo. Viamo. Oh, allora. Che cazzo è? Ma mi stanno lanciando dei jet bombardieri. Che cazzo è stato? Devo uscire. E devi uscire? Ma sti cazzi, come? Guarda in alto No, cosa fai? Ahia Come cazzo esci da qua? Quanta aria c'hai Blaskovic perché... Quanta è molto silenzio boi Ho visti, ho visto Guardate qua Ce ne sono due, eh Attenzione Allora ragazzi, vi dico la verità Non riesco a farlo in silenzio Allora mi sono roti i coglioni Mi sono roto il cazzo di cercarci Di farci, di provarci Ok, non ce la faccio Vaffanculo Allora il gioco ha deciso che deve andare così E così sia Sono un po' rotti i coglioni Qua, se vi interessa C'è un'area segreta con un po' d'oro Venite a prendermi Vi ammazzo tutti E facciamo prima Vediamo se non muori Qualche problema riguardo? Facciamo silenzio Non più allarme Problema risolto ragazzi Violenza sia Ho provato in mille modi a farlo in silenzio Non riesco E allora il gioco ha deciso che devo fare così E io ascolto Non lo vedevo Giusto Ragazzi come prima Ho rotto le palle Mi sono letteralmente rotti i coglioni Mi sono Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' un po' col figo, eh. Sei corazzato, ma non così tanto, eh. Grazie a tutti. Un attimo. Qualcosa a dire? Non me lo aspettavo così, questo qua. Dove sei. Dini. Dimmi tu quanto ne vuoi? Silenzio. Fanculo tutto e tutti. Si. Me canse di essere buona onda, come dico. No. 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 Munizioni. Non tantissime, ma accettiamo. Esci dalle caverne. Ok. Ok. Vai. Vai. Vai, Blazkowicz. Cattivissimo. No. 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 Il gioco, forse il gioco pensava proprio l'ho fatto a troppo veloce per i suoi gusti, perché ha letteralmente via wouldnela. vai zitto stai mi stai sul cazzo non puoi avere così tanta corazza silenzio per favore grazie permesso eh vado avanti per la mia strada io pensa in fretta si stiamo qua almeno mi possono venire solo da una parte vieto armatura armatura vita tutto quello che è mio datemelo grazie mappa subito ah qua eravamo all'inizio eh è sbloccato un potenziamento dice posso avere più corazza o è una corazza particolare questa ho visto vabbè scopriamolo no un po' tranquillo dai caricare un'ora mori Dai Quanti cazzo siete Tutto quello che c'è è mio Si apre dall'altro lato Si apre dall'altro lato Non più Vamos Non più Sì, sì, sì. Mi ha rotto il cazzo. E poi? Sì, vabbè. Allora dillo, no? Highlander, sei? Dillo? Non so se sei mortale, allora. Corri! Non so se sei. Ah, ecco. Sai. Caso di darci una calmata a tutti qua, eh? Cos'è stato? Non può entrare qua. Cos'è? Non so se sei. Oh, non so se sei. Non so se sei. Non so se sei. Non so se sei. 5-7 Voi che venite qua guarda Bravi bravi Fate i rambo bravi 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 così fate i rambo Faccio io rambo adesso perché Muoio per farle i coglioni Muoio chiaro Ok è stato un dramma Ma ho trovato finalmente la cosa Che è la X A chi interessa è la X E così cosa fa No 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 Vamos Meno male che avevamo Trovato sto pezzo di ferro Eh ragazzi Sennò sarebbe stata Un'avventura molto diversa È di qua no Interpreto Stanno parlando di noi eh Vedo di stare zitto ragazzo Non hai visto e non sai niente Ok Ah Vai Vai Conoio Apri apri Sì Sì Qualche problema Qualcuno mi chiama BJ Mi piace di più Hai l'aria da BJ Grazie Credo Qua sopra ragazzi C'è un altro di Old School Quindi adesso lo facciamo Ma lo facciamo nel prossimo episodio Lo faccio Anzi Mmm Facciamo così ragazzi Allora lasciamo l'episodio esattamente qui Nel prossimo Facciamo La parte Old School E poi andiamo avanti con la missione Quindi ragazzi Filiate con un bacione Un pura vida E ci vediamo in un prossimo episodio ragazzi Ciao 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 Grazie.